E' stata presentata questa mattina presso il Parco della Scienza a Teramo la seconda tappa del Giro di Italia 2023 che si terrà domenica 7 maggio. Con partenza da Piazza Martiri della Libertà saranno 204 i chilometri percorsi dei campioni della Corsa Rosa che attraverseranno anche la costa teramana fino all'arrivo sul lungomare di San Salvo. Tappa adatte velocissimi con qualche saliscendi, in particolare nella prima parte del percorso, a Silvipaese e a Ripateatina. La città di Teramo è pronta ad ospitare questa partenza, sarà una festa dello sport cittadino, avremo tantissime aree della nostra città occupate da questa invasione rosa e in qualche modo cercheremo di organizzarci al meglio per far vivere soprattutto ai più piccoli, alle famiglie, questo momento importantissimo di sport. È una domenica, quindi sarà anche un'occasione di grandissima visibilità per la città di Teramo, abbiamo sfruttato tutti i canali disponibili da parte di RCS, il soggetto organizzatore del Giro d'Italia, per promuovere anche la città di Teramo, il turismo, la tradizione e l'enogastronomia, quindi è l'ennesima occasione di cui possiamo farci, ecco, far tesoro per promuovere la nostra città e la nostra bellezza. Per la settima volta nella storia la città di Teramo si prepara ad ospitare la partenza di una tappa del Giro d'Italia a 113 anni dalla prima e a 33 dall'ultima. Contorno della tappa una serie di eventi di avvicinamento che partiranno domenica 16 aprile e si concluderanno il giorno della partenza e che coinvolgeranno tante istituzioni nel territorio. Il programma è un programma veramente misto tra manifestazioni sportive, manifestazioni musicali, intrattenimenti per bambini, c'è uno spettacolo in particolare, un programma in particolare, quello del Fru, del Festival delle Radio Universitarie, che è molto molto importante con tantissimi ospiti nazionali, tutte le radio più importanti d'Italia e anche concerti, tornerà a Teramo Cristina D'Avena il 5 di maggio, venerdì in Piazza Martire della Libertà. Sì, per la settima volta Teramo ospita la partenza del Giro, l'ultima volta 33 anni fa, quindi un motivo di orgoglio, vivere quest'anno questo momento magico. La seconda tappa, la partenza, Teramo città di tappa, intorno a questo evento abbiamo costruito veramente un percorso insieme a tutte le associazioni, all'Università degli Studi di Teramo, che ha messo in campo lo sport, il ciclismo, gli eventi culturali, le scuole, una serie di eventi che ci consentiranno di accompagnare la giornata di tappa, accompagnarla nel nome dei valori dello sport, mettendo al centro Teramo, città-capoluogo, per cui è un'occasione straordinaria di promozione delle nostre bellezze.